Marte Nicolia, il gol di Nicolia! Lo vediamo, molto bene, ha fatto la finta, ha spostato il corpo alla sinistra e ha colpito con una mano sola sotto il palo alla sinistra di Barcaio, niente da fare per il portiere spagnolo. Raed, è il gol! Prudenza di Raed, che colpo dell'Argentino! Nulla da fare per Barcaio, davvero non poteva nulla, Osvaldo Raed, guardate come prepara l'esecuzione. Grazie! Grazie! Grazie!